A tradirlo è stato l'atteggiamento agitato e guardingo durante il normale controllo della polizia stradale di Arezzo, un atteggiamento che ha portato i poliziotti a svolgere un accertamento più accurato, scoprendo droga pronta per lo spaccio. È successo lo scorso sabato, attorno alle 19.30, quando una pattuglia della sottosezione di Battifolle ha fermato in A1 all'altezza di Monte San Savino un arenoclio che viaggiava in direzione nord. Al volante c'era un ragazzo di origini albanesi di 22 anni. Gli agenti, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno deciso di perquisire la vettura. Nel cofano motore, nascosti dentro al vano dove si trova la batteria dell'auto, hanno scovato due pacchetti di sigarette che all'interno contenevano cocaina. In tutto, gli agenti hanno trovato 21 grammi di sostanza stupefacente, divisa in 42 dosi pronte per essere vendute. Il giovane, residente nel Valdarno Aretino, è stato arrestato e portato nel carcere di Sollicciano.